letture scomposte il luogo in cui storie scomposte seguono percorsi inaspettati benvenuti benvenuti o bentornati in questa nuova puntata di letture scomposte oggi usciranno due puntate una sarà in risposta alla shitstorm che ho subito nell'ultima settimana e che se mi seguite su instagram avrete un po' anusato e questa in cui voglio parlarvi di poesia perché proprio la poesia di tante arti è quella di cui abbiamo bisogno anche se non lo sappiamo immagino abbiate seguito qualche tempo fa la polemica sulle guerre puniche ma da molto più tempo la cancellazione via via di materie che sembrano inutili ha toccato l'arte la musica l'epica la narrativa e in misura ancora più criminale invece di allenare al gesto della scrittura i giovani pargoli delle elementari gli si chiede di scrivere in stampatello su fotocopie attaccate sulle pagine con risultati aberranti nei compiti scritti di licei e università non venite a dirmi che queste materie sono inutili guardate come si esprimono le persone sui social e mettetevi una mano sulla coscienza leggere e scrivere sono abilità fondamentali per la comprensione della realtà in cui viviamo la nostra proprietà di linguaggio la quantità di vocaboli che conosciamo persino la nostra capacità di organizzare uno scritto sono i nostri strumenti per interagire con l'esterno noi comunichiamo costantemente e costantemente leggiamo le comunicazioni più o meno esplicite di chi abbiamo intorno la strada della comunicazione è sempre a doppio senso quindi più strumenti abbiamo più esperienza facciamo con quegli strumenti e più diventa sensibile ed efficiente la nostra comunicazione a questo punto la domanda nasce spontanea ma perché proprio la poesia non è che parliamo in versi no la poesia nasce per raccontare la realtà entrandole dentro come nessun altro genere di linguaggio scritto può fare ogni legame fra le parole ogni sillaba è un percorso misterioso dentro se stessi e nella mente di qualcun altro al termine di questo cammino qualcuno scoprirà di amare la poesia e magari inizierà a scrivere sperimentando il potere che hanno le parole riversate su un foglio qualcun altro invece si interesserà di più allo studio cercherà di capire meglio il contesto storico in cui una poesia è stata scritta e si appassionerà le vicende molto più di quanto avrebbe fatto in altre occasioni questa mattina parlavo con la mia amica barbara e ci confrontavamo sulla volatilità delle relazioni del fatto che ormai le persone siano abituate a non soffermarsi su nulla immagini musica pensieri persone si scorre tutto come in un catalogo e quasi nessuno ha la voglia o la tenacia o persino la possibilità di impegnarsi su qualcosa che non riguardi esclusivamente se stesso e il suo appagamento momentaneo la nostra vita è talmente impegnativa che quando pensiamo all'intrattenimento al tempo libero alle persone che vogliamo accanto ci concentriamo su qualcosa di semplice superficiale e perdiamo completamente il contatto con la nostra umanità profonda questa è un'opinione personale per carità e non è un giudizio non è nemmeno un giudizio ma per quanto mi riguarda adoro complicazioni abissi e paradossi e questo mi fa stare un po scomoda in questa tipologia di mondo ma questa è un'altra storia montale nel suo discorso di ringraziamento per il premio nobel era profeticamente conscio dei rischi della volatilità della diffusione della cultura di massa e in uno stralcio del discorso dice questo ovviamente tutto il discorso che è piuttosto lungo ve lo metto in un link nel description box ho scritto poesie e per queste sono stato premiato ma sono stato anche bibliotecario traduttore critico letterario e musicale persino disoccupato per riconosciuta insufficienza di fedeltà a un regime che non poteva amare pochi giorni fa è venuta a trovarmi una giornalista straniera mi ha chiesto come ha distribuito tante attività così diverse tante ore alla poesia tante alle traduzioni tante all'attività impiegatizia e tante alla vita ho cercato di spiegarle che non si può pianificare una vita come si fa con un progetto industriale nel mondo c'è un largo spazio per l'inutile e anzi uno dei pericoli del nostro tempo è quella mercificazione dell'inutile alla quale sono sensibili particolarmente i giovanissimi in ogni modo io sono qui perché ho scritto poesie un prodotto assolutamente inutile ma quasi mai nocivo e questo è uno dei suoi titoli di nobiltà ma non è il solo essendo la poesia una produzione o una malattia assolutamente endemica e incurabile sono qui perché ho scritto poesie sei volumi oltre innumerevoli traduzioni e saggi critici hanno detto che è una produzione scarsa forse supponendo che il poeta sia un produttore di mercanzie le macchine debbono essere impiegate al massimo per fortuna la poesia non è una merce essa è un'entità di cui si sa assai poco tanto che due filosofi tanto diversi come croce storicista idealista e gilson cattolico sono d'accordo nel ritenere impossibile una storia della poesia per mio conto se considero la poesia come un oggetto ritengo che essa sia nata dalla necessità di aggiungere un suono vocale parola al martellamento delle prime musiche tribali solo molto più tardi parola e musica poterono scriversi in qualche modo e differenziarsi appare la poesia scritta ma la comune parentela con la musica si fa sentire la poesia tende a schiudersi in forme architettoniche sorgono i metri le strofe le cosiddette forme chiuse ancora nelle prime saghe e nibelungiche poi in quelle romanze la vera materia della poesia è il suono ma non tarderà a sorgere con i poeti provenzali una poesia che si rivolge anche all'occhio lentamente la poesia si fa visiva perché dipinge immagini ma anche musicale riunisce due arti in una naturalmente gli schemi formali erano larga parte della visibilità poetica dopo l'invenzione della stampa la poesia si fa verticale non riempie del tutto lo spazio bianco è ricca di a capo e di riprese anche certi vuoti hanno un valore come vi dicevo il discorso è piuttosto lungo e articolato e vale la pena di leggerlo e di fermarsi a meditarci su per cui facoltativamente lo trovate nel link in descrizione amo la poesia da sempre credo che i miei primi tentativi di scrittura siano state proprio filastrocche poesie sciarade a scuola ho amato la poesia epica le gesta di eroi talmente immensi da poter essere descritti solo con un linguaggio che era anche musica oltre che architettura pittura e scultura mi sono sempre chiesta come sarebbe una realtà più simile alla poesia rispetto alla nostra che sembra un trafiletto giornalistico non che non ami la semplicità e da qualche tempo ho ricominciato anche a leggere gli haiku gli haiku sono componimenti poetici di origine giapponese di tre versi e 17 more in fonologia una mora dal latino mora ritardo indugio è un'unità di suono che determina la quantità di una sillaba la quale a sua volta in alcune lingue determina un accento in questo spazio limitato di scrittura che è l'haiku devono trovare posto un riferimento stagionale il chigo che può essere un fiore un animale che si risveglia in un determinato periodo dell'anno una pianta un elemento il maestro giapponese seki osuga afferma al riguardo come il richiamo alla stagione rappresenta quel sentimento che emerge dalla semplice osservazione e contemplazione della dignità naturalistica e proprio qui risiede l'interesse nei confronti della poesia haiku laddove ogni cosa è armonizzata e ricondotta ad unità attraverso quello stesso sentimento data la loro importanza per la corretta scrittura di haiku in giappone vengono redatti dei cataloghi chiamati saijiki spero di pronunciarlo bene antologia delle stagioni che raccolgono tutti i riferimenti divisi per stagioni in sette sezioni convenzionali stagione fenomeni celesti fenomeni terrestri eventi vita umana animali e piante esiste poi il kirei o kiregi che spesso è intraducibile in italiano indica una cesura letteralmente una parola che taglia può essere una virgola un punto o una parola il kiregi ha la fanzione di segnalare al lettore un ribaltamento semantico o concettuale accatastata per il fuoco la fascina comincia a germogliare nozavo boncio 1640 1714 che luna il ladro si ferma per cantare iosa buson 1716 1784 e adesso vi leggo quella che secondo me è una delle più belle o comunque una delle mie preferite prendiamo il sentiero paludoso per arrivare alle nuvole matsua basho 1644 1694 ecco questo genere di semplicità è incredibilmente profondo e al contempo riposante in questo la cultura giapponese davvero affascinante avete mai provato a comporre un haiku o una poesia è un esperimento interessante soprattutto quando siamo stanchi mentalmente è una forma attiva di meditazione e sarei curiosa di leggere qualche vostro componimento poetico se avete voglia di farvi leggere da me e magari anche da questa community mandatemi le vostre poesie a letture.scomposte.podcast vi aspettiamo con gioia oggi è davvero una buona giornata per riempirvi di poesia vi abbraccio tutti fortissimo baci